Martedì 21 febbraio buongiorno Friuli e bentrovati a tutti voi a questa nostra prima diretta del mattino dedicata come sempre alla lettura delle notizie principali pubblicate dai quotidiani di oggi ma come sempre iniziamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per questo martedì vediamo cosa ci dicono gli esperti dell'Osmer Arpa oggi dalla costa alle prealpi avremo cielo in prevalenza nuvoloso con foschie o locali nebbie specie nelle ore notturne sulla fascia alpina cielo variabile con maggiore presenza di sole sui settori più interni della Carnia vediamo le temperature minime di 0,4 gradi in pianura 4,7 gradi sulla costa e massime che andranno dagli 8 ai 10 gradi salendo in quota vediamo una media di più 3 a 1.000 e 2.000 metri di altitudine e a proposito di nebbia vediamo che è proprio questo l'avviso principale che troviamo sul sito di Autovie sul sito di Autovie Venete che ci informa di eventuali criticità sull'autostrada ecco il tweet di un'ora fa ed ecco anche la cartina che ci dice appunto della presenza di nebbia sulla A4 tra Venezia Est e la Tisana quindi in particolare nelle zone al confine con il Veneto e poi anche sulla tangenziale di Mestre sulla A57 e dopo questo sguardo iniziale a meteo e viabilità ora andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, dei quotidiani nazionali e vediamo che c'è ancora la politica con la situazione del Partito Democratico in primo piano ecco allora il titolo di apertura del Corriere il PD e la scissione l'ora dello strappo Emiliano Vacilla Letta dice la responsabilità è del segretario oggi si tiene la direzione del Partito Democratico l'area di Speranza e Rossi diserta la scissione c'è già resta l'enigma del governatore della Puglia Michele Emiliano che ancora non ha chiarito la sua posizione nemmeno Renzi interverrà alla riunione che dà il via al congresso il ministro Orlando dice mi candido se serve all'unità i bersaniani ormai sono fuori venerdì i gruppi in Parlamento e c'è lo sfogo di Enrico Letta che dice non può finire così la responsabilità è del segretario poi vedremo anche sui quotidiani locali le ripercussioni di questa scissione imminente anche sulla politica regionale ma andiamo a vedere la fotonotizia pubblicata in prima pagina dal Corriere della Sera una fotonotizia che ci porta in Brasile festa e crisi decine di città rinunciano al carnevale e Rio soffre addio allegria il Brasile taglia il carnevale la festa più grande del mondo quest'anno sarà un po' meno grande colpa della crisi la peggiore recessione di un secolo almeno 48 città del Brasile hanno cancellato il carnevale a Rio meno sfarsi e ballerine andiamo adesso sulle prime pagine degli altri quotidiani andiamo sulla prima pagina di Repubblica dove il titolo è dedicato alle parole di Prodi un suicidio la scissione del Partito Democratico oggi la direzione del partito Renzi e i bersaniani non ci saranno Emiliano continua a trattare Letta dice non può finire così il ministro Orlando si candida alla segreteria e dice sfido l'ex premier andiamo a vedere anche la fotonotizia di Repubblica ci parla della protesta dei tassisti sit-in e minacce si allarga il fronte anti-Uber adunata davanti a Montecitorio prosegue quindi la protesta dei tassisti andiamo anche sugli altri quotidiani velocemente andiamo sulla prima pagina della stampa ecco il titolo di apertura PD si incrina il fronte degli avversari anti-Renzi ma i fuoriusciti preparano già la battaglia in Parlamento su tasse e lavoro e poi vediamo anche la fotonotizia ecco il trattore che lavora senza autista agricoltura del futuro è il primo mezzo al mondo senza cabina quando piove smette di seminare e parleremo anche noi oggi di un'innovazione che interessa anche il mondo dell'agricoltura ovvero quello dell'utilizzo dei droni in diversi settori sarà questo l'argomento del nostro approfondimento di oggi ma adesso andiamo sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo sulla prima pagina del manifesto ecco il titolo i musei dei cerini titola il manifesto oggi nessuno pronuncia la parola tutti temono di restare con il cerino in mano ma la scissione è nei fatti oggi i bersaniani e rossi disertano la direzione sulle regole congressuali Renzi non sotterra l'ascia delle elezioni e per il governo Gentiloni l'incidente di percorso potrebbe verificarsi sui voucher andiamo anche sulla prima pagina di Libero ora un altro titolo un'altra notizia in apertura emigrati per lavorare 20.000 italiani in Albania parecchi connazionali quasi tutti i dipendenti si sono trasferiti a Tirana dove il costo della vita è 5 volte più basso rispetto al nostro poi c'è poca burocrazia e una pressione fiscale al 15% il contrario del bel paese chiudiamo anche Libero e andiamo adesso sulla prima pagina del giornale ecco il titolo di apertura Palazzo Chigi finanzia la rete dei bordelli gay altro che cultura l'ufficio antidiscriminazione che denunciò il giornale dà 55.000 euro ai club di prostituzione homosex uno scoop che è stato fatto dalle iene nel mirino appunto l'ufficio antidiscriminazioni razziali è il suo responsabile che dopo il servizio delle iene si è dimesso chiudiamo anche il giornale andiamo adesso sulla prima pagina del Sole 24 ore vediamo il titolo di apertura il rischio bolla non spaventa i mercati tre mesi di rialzi per oro dollaro e titoli americani del credito mentre dai titoli di Stato sono usciti 2.000 miliardi dopo l'elezione di Trump le borse globali hanno guadagnato 6.000 miliardi di dollari una vittoria di Trump alle elezioni sarebbe un disastro per i mercati che perderebbero tra il 10 e il 15% contagiando poi le altre piazze mondiali questa la previsione della Brookings Institution un think tank di Washington datata ottobre 2016 e che poi appunto si è rivelata sbagliata non si tratta di una profezia isolata sottolinea il Sole 24 ore andiamo adesso anche sulla gazzetta dello sport vediamo anche il titolo di apertura della gazzetta andiamo nel taglio alto e vediamo l'intervista a Lippi il CT campione del mondo che dice Juve a 5 stelle genio e cattiveria di bala mi ricorda Sivori chiudiamo anche la gazzetta dello sport adesso e andiamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali andiamo su Messaggero Veneto Piccolo e Gazzettino vediamo assieme i titoli principali mondo del lavoro in primo piano in apertura sul Messaggero Veneto gli stagisti sono i nuovi precari in Friuli Venezia Giulia sono oltre 2000 il 7% ha più di 45 anni e allora andiamo a pagina 2 e 3 dove troviamo tutto l'articolo che ci fornisce appunto i numeri che ci descrivono ci raccontano questa situazione stagisti nuovi precari e in regione in 154 hanno più di 45 anni un boom anomalo per giustificare paghe ridotte in Friuli Venezia Giulia questo tipo di contratto interessa 2159 persone il settore che sfrutta di più la situazione è quello dei servizi 70% seguito a grande distanza dall'industria 20% tirocinanti stagisti precari anche in un'età in cui si dovrebbe cominciare a pensare alla pensione o ai figli che vanno all'università eppure è questa l'ultima fotografia del mondo del lavoro in Italia e in Friuli Venezia Giulia non si discosta molto dalla media nazionale anche se fa registrare numeri meno allarmanti rispetto al resto del paese numeri che appunto abbiamo già visto nei titoli di apertura e poi ancora c'è anche il racconto di un udinese di 32 anni licenziato da un'azienda che dice pagato 2 euro e 50 l'ora ma è meglio di niente la storia di un udinese di 32 anni licenziato da un'azienda mi pesa molto essere tornato a vivere a casa dei genitori questa la sua storia ritorniamo in prima pagina adesso andiamo a vedere la un'altra notizia che riguarda il mondo del lavoro l'economia in particolare con il fascicolo nord-est economia oggi in allegato al messaggero veneto lavoro la difficoltà di essere competitivi questo il titolo dell'inserto la fotonotizia a centro pagina si terrà in in Friuli a Udine il raduno del Triveneto per il Gay Pride attesi in 5.000 a Udine per il Gay Pride in giugno il raduno Triveneto e c'è la protesta di Forza Italia anche in questo caso poi nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo la sfilata conclusiva del Gay Pride si svolgerà in città sabato 10 giugno ci dice la didascalia della foto ma andiamo a vedere anche le altre notizie dicevamo della politica delle ripercussioni della scissione della spaccatura del Partito Democratico anche a livello regionale ecco come si spacca il PD in Friuli arriva anche in regione il terremoto politico Renziani e Bersaniani alla Conta scissionisti e indecisi Renziani consumatori diverse e Bersaniani e tanti disorientati che si guardano attorno attendono e annusano con chi è meglio stare per guadagnarsi riconferme e nuovi ruoli il dramma democratico si consuma di ora in ora in un PD ormai spaccato in decine di anime e c'è l'intervista a Tesini ex presidente del consiglio regionale che dice forti ricadute pure da noi questo è il titolo in prima pagina e poi appunto abbiamo una doppia pagina all'interno che analizza la situazione ecco ancora il titolo crisi dem Renziani scissionisti e incerti ecco come si spacca il partito democratico vicini all'uscita Pegorer e Travanut in bilico Malisani Sonego e Marsilio e vediamo poi in questa grafica la Galassia Dem in Friuli Venezia Giulia ci sono i fedeli diciamo così alla corrente Renziana e di Deborah Serracchiani e poi invece ci sono quelli che probabilmente seguiranno Pierluigi Bersani ovvero Carlo Pegorer e Mauro Travanut per quanto riguarda Andrea Orlando vediamo Francesco Russo Cristiano Schaurli Renzo Liva Vincenzo Martinez Franco Rotelli e Silvana Cremaschi e poi ci sono gli indecisi Lodovigo Sonego Enzo Marsilio Franco Codega Stefano Ucmar e Gianna Malisani questa la ricostruzione delle divisioni all'interno del partito democratico fatta dal messaggero Veneto Torniamo in prima pagina adesso andiamo di spalla il viaggio nei quartieri ci porta oggi a Beivars senza internet e il traffico è soffocante dicono gli abitanti del quartiere e poi ancora a Lignano morì 50 anni fa Lignano ricorda Teghil fu il primo sindaco della città e ancora andiamo a leggere anche quest'altra notizia si parla della reintroduzione del certificato medico dopo un'assenza prolungata nelle scuole dell'obbligo i pediatri dicono sì al ritorno del certificato medico niente certificato medico per rientrare a scuola dopo un'assenza per malattia proseguita oltre i cinque giorni il Friuli Venezia Giulia è fra le sette tra regioni e province autonome in Italia che hanno scelto la via della semplificazione i pediatri però dicono reintroduciamo quest'obbligo nel taglio basso i ragazzi friulani e il sesso quando la prima volta a 14 anni adolescenti precoci e disinibiti ma delle malattie non sanno nulla fanno sesso in modo precoce e disinibito ma dei rischi di salute che corrono non sanno niente o quasi a parte l'AIDS che comunque conoscono in maniera piuttosto approssimativa non sanno quasi nulla delle altre malattie sessualmente trasmissibili ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo dedicato a Udine e provincia ma andiamo a vedere anche le altre notizie richiamate in prima pagina si parla di un progetto presentato ieri per riscoprire i sentieri dei pellegrini ecco il titolo scoprire la nostra terra sui sentieri dei pellegrini il titolo e poi nelle pagine dedicate alla cultura abbiamo tutto l'articolo che ci racconta nel dettaglio i cammini spirituali dalla Carnia ad Aquileia nasce il progetto World Cart FWG modello Santiago de Compostela un progetto europeo da un milione di euro e a Maiano potrebbe riaprire l'antico ospitale di San Giovanni di San Tommaso fondato nel 1200 rivivono le antiche rotte dei pellegrini dal centro Europa a Roma sarà un modo per rinnovare l'amicizia tra i popoli un pellegrinaggio che vediamo in questa mappa porta a Tarvisio su Lussari a Castelmonte a San Daniele del Friuli e poi ancora a Concordia Sagittaria Aquileia e infine Trieste torniamo in prima con un'ultima notizia che ci anticipa un po' le pagine sportive e si parla di una possibile intitolazione a Zico della Curva Nord ecco il titolo nel taglio basso intitolare la Curva a Zico la Nord è già d'accordo ecco il titolo che poi approfondiremo nella nostra rassegna stampa sportiva andiamo adesso a vedere anche le notizie pubblicate dall'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto questa è la prima pagina andiamo subito nel fascicolo interno e vediamo che in apertura delle pagine dedicate a Pordenone c'è l'assemblea dell'ATAP la società che si occupa del trasporto pubblico a Pordenone Comuni e Regione disputa sulla quota della provincia oggi si ripartiranno tra i soci oltre 5 milioni di bonus extra attinti dalle riserve all'ente intermedio in fase di dismissione spetta quasi un milione e mezzo il sindaco di Pordenone Ciriani ritiene che i soldi non debbano finire a Trieste ma andare a quanti hanno lavorato perché questi dividendi ci fossero il presidente della società Bagaggini dice si vedrà nel futuro quali degli azionisti presenti all'incontro in calendario per oggi ci saranno anche il prossimo anno nella pagina successiva invece spazio all'ultima udienza del processo a carico di Giosuè Ruotolo per la morte di Teresa Costanza e Trifone Ragone ieri appunto c'è stata un'altra udienza in Corte d'Assise a Udine in cui si è parlato delle indagini parallele dei genitori di Trifone ogni settimana la spola tra Adelfia e Pordenone poi il padre lavorò in tribunale a Pordenone il ricordo dei fratelli dai vanti ai giudici per noi era il pilastro centrale sono stati ascoltati quindi ieri i familiari di Trifone che hanno raccontato appunto delle indagini che avevano fatto subito dopo la morte di Trifone ecco il titolo e poi ancora andiamo nella pagina accanto quel fiume di soldi nascosti collegato ai due ragazzi uccisi Trifone arrotondava con la cessione di anabolizzanti e le serate da ragazzo immagine in discoteca Teresa a Milano incassò 200 mila euro in tre anni e li consumò in sei mesi in due giorni ne spese 7 mila partita come il diciottesimo atto del processo a Giosuè Ruotolo per il duplice omicidio l'udienza di ieri si è ben presto trasformata in un racconto senza sconti della vita delle due vittime Trifone Ragone e Teresa Costanza di un amore solare entusiasmo contagioso ma anche dei misteri alcuni dei quali forse destinati a restare irrisolti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi delle loro esistenze questa la ricostruzione dell'udienza di ieri in Corte d'Assise a Udine il lunedì ci sarà un'altra udienza sarà il turno di Rosaria poi la Bruzzone ecco ancora il titolo chiudiamo anche il messaggero veneto di Pordenone andiamo a vedere la prima pagina del messaggero veneto di Gorizia nell'Izontino si parla dei fondi provenienti dal comune per la risistemazione della città commercio dal Pisus altri 500 mila euro nuovi fondi dal comune finanziati la pasticceria centrale la pizzeria agli archi l'Ansa la libreria fra i dotti e il bar Torino nuova pioggia di contributi sul commercio goriziano e la fonte di tanta abbondanza e ancora una volta il Pisus il piano di sviluppo urbano che dopo aver riversato attraverso la regione un milione duecentomila euro nelle casse comunali è stato rimpolpato grazie a un ulteriore finanziamento pari a mezzo milione di euro che sarà destinato a otto attività del centro storico di cui sette accedono al contributo per la prima volta ci sono però anche gli esclusi che protestano e si lamentano più di 50 domande e gli esclusi si lamentano chiudiamo anche questa pagina del messaggero veneto e andiamo sul piccolo andiamo sul piccolo di Trieste vediamo il titolo di apertura il terrorismo pesa sul carnevale a Muggia barriere antitir e controlli severi Trieste schiera 128 agenti e andiamo allora a vedere la pagina interna del piccolo che ci racconta dei preparativi per il carnevale di Muggia lo storico carnevale la storica sfilata di carnevale blindata ci dice il piccolo carnevale blindato a Muggia con le barriere antiterrorismo misure in vigore da venerdì fino a mercoledì primo marzo saranno posizionati manufatti in cemento con l'obiettivo di rallentare i veicoli ed evitare ogni possibile rischio il prefetto parla di una mossa preventiva il provvedimento del servizio di polizia locale fa riferimento nelle motivazioni agli attentati di Nizza e Berlino ampia chiusura al traffico ed ecco qualche foto anche che ci riporta alle feste degli anni scorsi impegnati 128 agenti per gli eventi invece a Trieste chiudiamo anche il piccolo ritorniamo un attimo in prima pagina andiamo a vedere la foto notizia che spicca sulla prima del piccolo si parla del santuario di Montegrisa che riapre la caccia ai benefattori nuove sottoscrizioni per l'impianto audio e l'organo questo il vulcanico rettore scrive il piccolo non si ferma e lancia due sottoscrizioni per rinnovare l'impianto audio della chiesa e acquistare appunto un nuovo organo chiudiamo il piccolo adesso e andiamo anche sulla prima pagina del gazzettino per chiudere la nostra carrellata sui quotidiani locali vediamo l'apertura caos pd si spaccano anche i ribelli rossi e i bersaniani vicini all'addio Emiliano frena e Orlando si candida pronto se serve a unire abbiamo già parlato ampiamente di questa notizia allora andiamo a concentrare la nostra attenzione sulle notizie locali nord est solo il 9% considera l'islam una religione pericolosa questo il risultato del sondaggio che il gazzettino l'osservatorio realizza ogni settimana andiamo allora a vedere nelle pagine interne qualche particolare in più paura attentati a nord est ma nessuna psicosi sull'islam come abbiamo visto solo il 9% ritiene che questa religione inciti alla violenza maggiore apprezzione tra chi vota lega torniamo allora sulla prima pagina del gazzettino andiamo a vedere qualche altra notizia di cronaca due ragazzine perse nel bosco salve dopo la paura a piancavallo e poi vediamo anche sul gazzettino la notizia del gay pride che si terrà a Udine mostre anche a Pordenone e poi andiamo nel taglio alto rubava negli zainetti ventenne condannato a un anno e mezzo e invece nella sempre a Pordenone droni e fototrappole la lotta dei sindaci contro i rave party ed è proprio questa la notizia che apre oggi il fascicolo di Pordenone del gazzettino l'area del tagliamento è diventata un luogo di ritrovo per feste scatenate e droga patto tra i sindaci dopo l'ultimo blitz delle forze dell'ordine e le denunce la zona sarà ripresa dall'alto e saranno utilizzate le squadre di volontari anche il gazzettino poi dedica spazio un lungo articolo all'udienza di ieri per quanto riguarda il processo a carico di Giosuè Ruotolo si punta l'attenzione nel titolo su una testimonianza in particolare che ha riferito così Ragone procurava anabolizzanti agli amici la testimonianza al nostro rapporto si raffreddò fece la cresta su una confezione la parte civile dice tutto già chiarito dalle indagini emersi soltanto fatti infondati è stata un'udienza carica di tensione ieri in corte d'assise a Udine a tratti sembrava che fosse un processo alla vittima e al suo stile di vita più che all'imputato Giosuè Ruotolo chiamato a rispondere dell'omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza questo l'attacco l'inizio dell'articolo di oggi sul Gazzettino prima di fermarci andiamo a vedere anche l'articolo che apre il fascicolo dedicato al Friuli si parla anche in questo caso della maggioranza in bilico dopo la scissione che in realtà deve ancora compiersi all'interno del Partito Democratico regione maggioranza in bilico il centro sinistra rischia di finire sotto in aula diventa obbligato il presenzialismo la matematica condanna a far votare anche la Presidente Serracchiani e Jacop il PD nazionale oggi capirà con quante anime andrà al congresso se con la pluralità che ha sostenuto il dibattito interno in questi mesi o se con le voci che restano dopo l'ascissione mentre il PD regionale si interroga su ciò che non vorrebbe i numeri della maggioranza in consiglio regionale se il gruppo DEM dovesse registrare qualche addio e con questa notizia che ci ha riportato un po' all'apertura di questa nostra rassegna stampa con i quotidiani nazionali che come abbiamo visto aprono oggi in buona parte proprio con le novità in casa DEM dicevamo con questa notizia chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa prima però andiamo a vedere il box dei programmi sulla pagina degli spettacoli del messaggero veneto che ci ricorda un po' gli appuntamenti principali di oggi su Udinese TV vediamo questa sera l'approfondimento del martedì fuori tutto dedicato agli alloggi Ater il balletto delle cifre di battito e nuove polemiche sulle assegnazioni delle case popolari a cura di David Zanirato e Francesco Pezzella e adesso si è il momento di fermarci per un attimo un po' di pubblicità e poi attenzione puntata sulle notizie sportive rimanete con noi e poi un po' di pubblicità un po' di pubblicità